bentornati a trame raccontate male allora chiudiamo il cicchio di cavaliere rusticana con la sua gemella siamese appunto pagliacci benché i due autori il cavallo e mascagni andassero d'accordo come tommy e gerry e sicuramente il fatto di dover dividere gli introiti dei diritti di autore della stessa serata stava cordialmente sui didimi a entrambi pagliacci è la storia di una donna giovane e carina che essendo sposata con un uomo più vecchio di lei piuttosto in bolletta eppure un po' manesco inspiegabilmente lo vuole lasciare si innamora allora di tale silvio e decide di scappare con lui c'è bisogno che vi dica che in questa storia non ci sarà alcun lieto fine calabria è un paesello sperduto a metà ottocento una compagnia di artisti girovaghi e alquanto squattrinati vero è anche che artisti girovaghi vanno in giro i lamborghini se ne vedono pochini vaga per la regione sono girovaghi per fare spettacoli teatrali della compagnia fanno parte canio capo della compagnia uomo si rude e violento ma anche no solo rude e violento nedda sua moglie che per essersi ridotto a sposare uno come canio pensate un po che infanzia deve aver avuto tonio il gobbo della compagnia ora essere deforme non è mai stato un grande vantaggio in nessuna epoca storica pensate però cosa poteva voler dire esserlo in tempi il cui il body shaming non solo non era considerato sconveniente ma era addirittura una sorta di sport nazionale tonio oltretutto essi deforme ma è anche scemo e non lo dico io è non mi permetterei mai lo dice di un cavallo insomma questo povero cristo è deforme brutto e basso e tutti lo perculano ma perché non sei basso per essere una rana sei nella media il quarto protagonista dell'opera e silvio amante di nedda con la quale ha in progetto di fuggire chiude il cast peppe perché al libretto serviva un quinto personaggio la compagnia arriva in paese accolta festosamente dai paesani sai erano tempi in quegli svaghi erano pochini dei ragazzi si avvicinano al carretto e peppe con le tipiche buone maniere di allora gli allontana con lo scudiscio è scritto nel libretto sempre dal libretto nedda indossa un costume con le vie di mezzo tra una zingora e un acrobata una roba del genere insomma nedda scende dal carretto tonio fa per aiutarla a scendere ma canio glielo impedisce con un ceffone ve l'ho detto che manesco eh oltre alla sberla tonio porta a casa anche gli insulti del pubblico che lo deride un vero e proprio tiro al piccione ci sta quindi che tonio già un filo incattivito contro madre natura e contro la vita stessa decide di vendicarsi nei confronti di canio di canio non di canio di canio vi avevo già detto che era un rude e un violento ma in realtà il ritratto è incompleto perché anche un ubriacone e poi ti chiedi come mai nedda lo voglia lasciare prima di andare all'osteria dalla quale tornerà con tanto di fiatella alcolica a tampinare sua moglie prima di andare all'osteria dicevo avvisa tutti che se mai dovesse sorprendere nedda con un altro la storia finirebbe male fa insomma davanti a tutti una pubblica dichiarazione che se mai qualcuno dovesse filmare col telefonino certo al processo non gli gioverebbe dice infatti che lui ride scherza e fa il cretino ma se nedda sul serio sorprendessi altramente finirebbe la storia sentita questa pubblica dichiarazione di intenti criminali nedda dice a se stessa confusa io son e perché si confusa non è difficile è geloso di sua moglie geloso e pericoloso giungerei nedda resta da sola a preoccuparsi di come gestire la situazione ha infatti conosciuto silvio che è diventato suo amante e col quale programma di scappare e ovviamente stanta situazione bisogna star cauti è fantasticare di vari uccelli e scritto nel libretto ogni io penso che sia il momento giusto per provarci con lei e parte soft facendo prima il romanticone è colpa del tuo canto affascinato io mi beava poi la butta sul patetico allorché sdegnosa mi passi d'accanto non sai tu che pianto mi spreme il dolor e alla fine si dichiara follemente innamorato nedda al contrario di canio ancora nedda dicevo al contrario di canio è un animo sensibile e gentile e risponde con estremo disprezzo alle esternazioni amorose di tonio prima con risparmiati per ora la pena e poi con un empatico mastro tonio la gobba oggi vi prude tonio esaurito il tentativo di approccio dialettico e romantico passa al caro vecchio piano b tenta la violenza nedda però non è una sprovveduta che si faccia bullizzare nel primo infoiato che incontra e con una frusta lo colpisce in faccia smorzandogli gli ardori e perché una frustata in faccia te li abbassa come gli ormoni già che c'era poteva dargli anche un calcio nelle palle come controeffetto però istiga la sua vendetta che a questo punto non sarà diretta solo contro canio ma anche contro nedda stessa intanto di canio basta abbiamo perso le tracce dato che si sta sbronzando allegramente all'osteria arriva silvio col quale nedda intesse un lungo duetto d'amore e mi ami ma quanto mi ami e mi pensi ma quanto mi pensi e tutto lo stucchevo del repertorio del mucci mucci picci picci tipico degli innamorati da mezz'ora ne riparliamo appena ci sarà da scendere colore delle tende tonio li becca in flagrante e si illumina d'immenso scorgendo la possibilità di vendicarsi sia di nedda che di canio corre quindi ad avvisarlo canio irrompe improvvisamente sulla scena e silvio invece che proteggere la sua amata pensa bene di darsi la gambe lasciando nedda alle ire di canio del marito alle ire del marito fuggito silvio infatti canio cerca di far confessare nedda il nome del suo amante le armi del dialogo e del confronto civile per essere più persuasivo tiro fuori un coltello tipo la sciabola di sandokan peppe giustifica la sua presenza nell'opera impedendo il femminicidio e riuscendo a calmare temporaneamente canio il quale si trucca per affrontare l'incombente recita teatrale ora lo spettacolo messo in scena è la tipica commedia dell'arte c'è quindi un canovaccio una sorta di traccia da seguire ma fondamentalmente tutto improvvisato nella recita si ripropongono gli stessi ruoli della vita reale canio interpreta un marito tradito dalla moglie interpretata da nedda toni invece come nella realtà interpreta uno spasimante rifiutato e come nella realtà nedda programma di scappare con un amante siamo all'epilogo sulla scena canio dice a nedda quello che vorrebbe dirle veramente nella vita reale una playlist di insulti tendente soprattutto a stigmatizzare la di lei etica matrimoniale con particolare riferimento all'obbligo giuridico manco prima morale della fedeltà coniugale insomma le dà della puttana le rifacce inoltre di averla raccolta dalla strada illuso che la gratitudine potesse sopperire alla mancanza di amore e infatti in uno slancio di autostima le dice sperai se non amor pietà nedda sulla scena comincia un attimo ad avere paura e ne ha ben donde e comincia a vedere la vita che ne scorre davanti il furore del marito tradito cresce la commedia e la vita vera si intrecciano sempre di più e il pubblico stesso rimane spiazzato e comincia a non capire cosa sia succedendo solo silvio tra il pubblico capisce cosa sta accadendo davvero ed esclama santo diavolo santo diavolo fa davvero nedda cerca di fuggire canio la raggiunge e la pugnala silvio alla buona ora corre il suo aiuto ma esattamente come compare turiddu affronta il rivale con una valutazione troppo ottimistica sulle sue qualità di combattente perché nelle opere sono tutti dei fucking samurai canio lo uccide in tre secondi netti se volete da qualche tempo c'è la possibilità di abbonarvi al canale per avere dei contenuti extra comunque alla peggio mi auguro almeno che siate iscritti come si fa di iscriversi facile si clicca qua sopra like e commenti sono graditi e sono anche gratis ci vediamo alla prossima trama raccontata